ciao a tutti e bentornati qui Chesanna l'estate sta arrivando ed è giunto il momento di parlare di protezione solare SPF scopriremo quali sono i miei prodotti preferiti in questa categoria diverse formule SPF per il viso per il corpo spray primer ma anche formule adatte a diversi tipi di pelle quindi se state cercando SPF perfetto per voi non vi resta che tuffarvi in questo video detto questo come sempre bando alle ciance e cominciamo prima di cominciare però voglio dedicare un piccolo spazio in questo video ad un brand del quale vi ho già parlato un brand di gioielli con il quale ho già collaborato in passato Anna Luisa sfrutto moltissimo i loro gioielli adesso li sto indossando anche il braccialetto e volevo aggiornarvi su come si stanno comportando nel tempo alcuni di questi pezzi li ho acquistati da più di un anno e mezzo e devo dire sono ancora perfetti gli orecchini che indosso sono il modello M gli orecchini dei quali mi sono innamorata alla mia prima collaborazione con il brand quando mi ha chiesto di cercare sul loro sito il prodotto per me sono stati loro perché sono innamorata delle gocce sarà il mondo fantasy un po elfico che mi fa sempre pensare alla principessa della storia infinita che aveva una goccia a perla sulla fronte le gocce mi sono sempre piaciute moltissimo e quando avevo ricevuto questi orecchini ero rimasta dispiaciutissima di non aver potuto selezionare anche la collana abbinata che poi ho acquistato con il mio codice sconto sfrutto moltissimo questo set ed è tra i miei preferiti del brand la collanina si chiama Elise un'altra collanina che ho sfruttato moltissimo è la collanina May anche lei un gioiello bellissimo adesso la vedete da lontano poi sullo schermo ci saranno delle foto o dei video più ravvicinati è davvero un gioiello che mi piace moltissimo per la luminosità e perché ancora una volta c'è il tema della luna e delle piccole stelle un altro soggetto che a me piace davvero davvero moltissimo come mi piacciono moltissimo i fiori del mio braccialetto rovina che è uno dei primi prodotti che ho ricevuto dal brand proprio insieme a questi orecchini se non mi sbaglio e che ho sempre sfruttato tanto io vi ho sempre parlato molto volentieri di questo brand perché ne condivido la filosofia è un brand carbon e climate neutral quindi cerca di ricompensare la co2 prodotta durante il ciclo di produzione e quando e dove si può utilizza prodotti reciclati e reciclabili a partire dalle scatoline di cartone con le quali arrivano i prodotti in questo caso come nei video precedenti questo video non è sponsorizzato io non sono stata pagata per parlarvi di questi gioielli semplicemente avrò la possibilità di sceglierne altri due gratuitamente cosa che mi fa davvero davvero piacere poi ve li farò vedere su instagram quando mi arriveranno perché io li sfrutto davvero moltissimo anche per fare i miei contenuti per non avere sempre gli stessi orecchini la stessa collanina sono tutti prodotti di ottima qualità rivestiti in oro o argento come vi ho detto performano nel tempo sono rimasti bellissimi e quindi sono felice di potervene riparlare come sempre in infobox io vi lascio il link del brand così se volete andare a dare un'occhiata a questi gioielli ben volentieri poi mi potete far sapere giù nei commenti quali vi sono piaciuti un consiglio sul loro sito andate a selezionare UE ovvero Europa in modo da poter vedere i prezzi in euro io non ho mai avuto nessun problema di dogana che non c'è i tempi di spedizione sono brevi c'è una garanzia sui gioielli quindi qualora fossero rovinati o si rovinassero nel tempo potete tranquillamente contattare il brand l'ho sempre trovato davvero un brand responsivo e disponibile e che quindi vi consiglio con piacere il link lo trovate in infobox vi lascio anche i nomi dei gioielli dei quali vi ho parlato e detto questo tuffiamoci veramente nel mondo estivo degli SPF eccoci qui vi ho avvicinati per partire con il primo SPF che è un SPF per il viso di mulac che io non posseggo perché l'ho già testato e vi ho fatto una recensione dedicata sul canale quindi non voglio dilungarmi ci tenevo a parlarvene perché è un SPF che mi è piaciuto trovate la video recensione qui ma consiglierei solo ad un certo tipo di pelle e solo a chi ama un certo tipo di finish perché è un SPF sottile bisogna riuscire a lavorarlo per bene perché all'inizio può sembrare sia bianco ma invece quando lo facciamo penetrare nella pelle nessun white cast molto sottile il finish è luminoso quindi non lo consiglierei ad una pelle grassa troppo luminoso per la mia pelle mista in estate quindi è un SPF che ho utilizzato con piacere nel periodo invernale tutte le informazioni aggiuntive le trovate nel video dedicato perché non l'ho riacquistato perché poi ho scoperto tutto il mondo degli SPF coreani e vi confesso che non sono più tornata indietro il primo SPF che mi ha fatta innamorare di questo mondo è questo SPF di Easton Tree lo Yaluronic Acid Watery Sun Gel davvero un SPF validissimo che ho consigliato a tutte le mie amiche e che tutte le mie amiche adesso utilizzano e mi ringraziano per averglielo consigliato l'ho utilizzato tutto l'inverno a volte anche da solo perché contenendo acido yaluronico può funzionare benissimo come prodotto due in uno quindi crema idratante ed SPF texture sottilissima non vado a farvi vedere l'applicazione su pelle nuda perché lui l'ho già applicato in un reel e in uno shorts qui su youtube quindi potete andare a cercarli per vedere l'applicazione se c'è la possibilità ve lo lascio qui nelle schede non l'ho tagliato perché lui l'ho quasi terminato e la seconda volta che l'ho riacquistato davvero è un SPF super texture sottile fresca che si assorbe subito ottima componente idratante nessunissimo white cast ma anche qui una volta assorbito non è assolutamente unto quindi l'ho trovato meno luminoso nel finish rispetto alle SPF di mulac mi è piaciuto tantissimo lo consiglierei ad una pelle secca tutto l'anno ad una pelle normale tutto l'anno ad una pelle mista come la mia lo consiglierei in primavera in autunno e ho dimenticato una stagione in inverno perché forse per l'estate effettivamente è troppo idratante perché vi dico questo è vero noi ne parliamo adesso in estate ma gli SPF vanno utilizzati tutto l'anno io li utilizzo come ultimo step della mia skin care routine di solito vado a fare colazione in modo che tutto si assorba per bene e poi vado a truccarmi mi raccomando gli SPF sono essenziali i danni dovuti all'esposizione al sole sono la prima causa dell'invecchiamento cutaneo quindi potete spiaccicarvi in faccia tutto quello che volete ma il prodotto più importante per mantenere la vostra pelle per proteggerla da macchie da un invecchiamento precoce è proprio questa accortezza applicare la protezione solare ed è per questo che applico una protezione 50 tutto l'anno e con formule di questo tipo per nulla spesse per nulla presenti si può tranquillamente fare perché non l'ho riacquistato perché per l'estate ho scelto una formula ancora più fresca ancora più sottile ed è l'SPF di The Saem eccolo qui questo SPF si chiama Jeju Fresh Aloe ed ha una texture ancora più sottile ma soprattutto più fresca perché sembra davvero un gel io l'ho scoperto in un negozietto di Zurigo dedicato alla skin care giapponese e coreana ma ho scoperto che si trova tranquillamente anche sui siti italiani texture in gel freschissima profumazione aloe nemmeno il prodotto di Issen3 mi ha mai creato problemi da questo punto di vista quindi al sicuro dalle mie emicranie davvero lo applichiamo e ci dà una sensazione di freschezza è un piacere applicarla perfetta per l'estate ed è per questo che non ho riacquistato questo SPF che riacquisterò con l'arrivo dell'autunno per l'estate lui lo preferisco perché ho una pelle mista che tende a lucidarsi quindi se avete una pelle mista grassa e cercate un SPF davvero rinfrescante sottile che sia idratante ma non troppo che non rischi di farvi lucidare nelle ore davvero io questo prodotto l'ho amato si applica in un attimo nessun problema di white cast quindi non ci rimandano strisciate bianche il trucco al di sopra si applica benissimo così come con le SPF di Issen3 questi sono due prodotti che in base alle vostre esigenze in base al vostro tipo di pelle non posso che consigliarvi pelle secca e normale lui tutto l'anno pelle mista e grassa lui davvero sono due prodotti che in base alle stagioni non smetterò credo di riacquistare voglio però darvi un consiglio anche se avete la pelle davvero davvero grassa e cercate un SPF con un finish matte perché qui abbiamo per entrambi un finish che rimane naturale non è assolutamente unto ma non va a mattificare qualora cercaste un SPF che vada a mattificare beh è lui la Roche Posay Antelius 50 plus questa è proprio una protezione solare anti shine quindi con un effetto mattificante eccolo qui più da vicino vi faccio vedere l'applicazione non fatevi spaventare dalla texture un pochino più presente di questo SPF va semplicemente lavorato e una volta che si assorbe nella pelle povera me ne ho messa un quintale il finish è totalmente totalmente matt è un SPF che ho apprezzato moltissimo l'estate scorsa anche qui una profumazione mi sbaglio non mi sbaglio pelli sensibili senza profumo quindi perfetto da questo punto di vista finish matte l'ho utilizzato tantissimo l'estate scorsa come vi dicevo nei momenti più caldi se avete la pelle grassa e cercate davvero un SPF mattificante è lui perché poi non ho continuato a utilizzarlo perché io non ho la pelle grassa ho la pelle mista e quando è arrivato l'autunno ed il freddo per me è troppo dissecante nei mesi freddi lui lo terminerò quest'estate quando mi starò sciogliendo e al mattino ho bisogno di un SPF che mi aiuti anche a non farmi lucidare troppo nelle ore e da questo punto di vista è ottimo arrivato il periodo freddo nelle mie zone di secchezza non era abbastanza idratante ed è la ragione per la quale l'ho abbandonato ma come vi dicevo pelli grasse è il prodotto per voi passiamo adesso ad un'altra categoria sempre legata al viso ovvero i primer quindi quegli SPF che io vi consiglio dopo le SPF classico ma prima del makeup perché perché se ci piace applicare un primer nel periodo estivo tanto meglio che possegga le SPF all'interno quindi andiamo a proteggerci ulteriormente in questo caso il primo prodotto del quale vi parlerò non è classificato come primer ma è un SPF classico quindi si potrebbe tranquillamente utilizzare su tutto il viso ma io lo preferisco come primer non è la prima volta che vi parlo di questo prodotto ve ne avevo già parlato in una mia mini recensione del giovedì su Instagram se non mi seguite su Instagram andate a dare un'occhiata ogni giovedì faccio una mini recensione di un prodotto makeup o skin care l'anno scorso vi avevo parlato di questo SPF che è un SPF della SUR protezione 50 più blur sun secure come avrete capito è un SPF con effetto blur quindi con effetto riempitivo eccolo qui più da vicino cosa mi piace di questo prodotto? l'effetto riempitivo mi piace che si adatto a pelli sensibili e che rispetti l'ambiente perché vado a recuperare la mia recensione questo SPF ha un pack realizzato con il 28% di plastica riciclata ed è riciclabile quindi i punti di partenza sono ottimi ma perché io ve lo consiglierei come primer piuttosto che come SPF? io con questo prodotto ho avuto qualche problemino il primo riguarda la profumazione non è una profumazione cattiva ricorda proprio l'estate la profumazione di un solare ma è bella e intensa quindi avrete già capito dove voglio andare a parare io che soffro di emicrania in una giornata di mal di testa non riuscirei ad applicarlo quindi non riesco a sfruttarlo sempre ma se non avete problemi con le profumazioni questo non sarà il vostro problema altro secondo problema se non ci penso e lo applico troppo vicino agli occhi mi bruciano leggermente nulla di problematico non ho mai dovuto lavarmi la faccia o struccarmi ma mi succede succederà anche a voi? probabilmente no perché io ho gli occhi particolarmente sensibili ma se anche voi avete questo mio stesso problema attenzione all'applicazione lontana dagli occhi terza motivazione riguarda la texture e il finish di questo prodotto vado a farvelo vedere più da vicino ha una colorazione un po' particolare perché è aranciata ma una volta fatto assorbire nella pelle è totalmente trasparente l'effetto è matte come potete vedere e riempitivo perché anche al tatto questo prodotto ricorda proprio un primer siliconico qual è il problema? è che come i primer siliconici ha questa texture che rimane un pochino in superficie sulla pelle ne va applicato poco ha effettivamente un bellissimo effetto riempitivo ma e molti pecchiamo in questo di SPF ne va applicato molto di più di quanto noi pensiamo bisognerebbe applicarne una striscia su ogni dito della mano e quella sarebbe la quantità giusta di SPF se applicassi questa quantità di SPF con questo prodotto per me sarebbe troppo proprio per questa texture bella siliconica mi rimarrebbe un pochino in superficie avrei paura poi di applicarci al di sopra il fondotinta in realtà in estate l'ho utilizzato anche da solo ma dovevo sempre aspettare un pochino che si assorbisse tante volte come vi dicevo se ho tempo faccio colazione e poi vado a truccarmi non sempre se devo applicare l'SPF e subito dopo mi devo truccare questo SPF ci mette un pochino a penetrare nella pelle ed è per questo che io sul mio tipo di pelle lo preferisco come primer quindi come step aggiuntivo sulla zona dei pori e sulla zona delle mie rughette perché così ne posso applicare meno ho un bel effetto riempitivo e vado ad aggiungere protezione solare all'SPF al di sotto ci sono tantissime persone che lo adorano anche da solo se dovessi scegliere per me è perfetto come primer un primer riempitivo che aggiunge anche protezione primer successivo un update ve ne ho parlato quando ho recensito la collezione estiva di Kiko è il primer della collezione Little Mermaid anche qui non voglio dilungarmi c'è una recensione dedicata mi piacerebbe farvi questo update perché io nella mia recensione vi ho detto che non mi ha convinta al 100% per il finish su di me è troppo unto troppo lucido c'è proprio una componente oleosa in questo prodotto ma sono rimasta abasita perché guardando altre recensioni alcune altre recensioni dicevano su di me ha quasi un effetto di seccante e quindi questo è un mistero che non sono ancora riuscita a risolvere nella mia memoria le versioni degli anni precedenti erano più aranciate ma non avevano questo finish oleoso io scecchero sempre il prodotto prima di applicarlo quando sono andata a Zurigo sono passata da Kiko e l'ho voluto riswatchare in negozio per vedere come fosse comparato al mio io non so se sia una differenza nel mio cervello quindi ho avuto un'impressione diversa in negozio o se effettivamente ci sia differenza nelle formule dei vari lotti quello che ho swatchato in negozio mi è sembrato meno unto del mio che come potete vedere ha proprio questo effetto unto e lucidino che non va particolarmente d'accordo con la mia pelle mista riesco a farlo funzionare non è un dramma se volete maggiori informazioni c'è davvero una recensione approfondita in quel video ma vi confermo che la mia opinione su questo prodotto è rimasta la stessa detto questo possiamo passare invece ad un prodotto che mi ha da subito convinta ed è un prodotto di Super Gulp o meglio un SPF devo smetterla di dire prodotto 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 eccolo qui ho acquistato la mini size sul sito di Sephora perché utilizzandolo come primer mi sono detta mi basta la mini size ed è effettivamente così si può utilizzare anche come prodotto tutto in uno quindi come protezione solare però anche qui avendo anche questo prodotto un finish leggermente riempitivo come SPF secondo me è un po' sprecato non andrebbe utilizzato troppo per niente preferisco un altro tipo di texture anche perché in questo caso parliamo di un SPF 30 e come vi ho detto come protezione solare effettiva io preferisco un SPF 50 in questo caso parliamo di un filtro 100% minerale non voglio entrare nei dettagli non è il mio campo ma di SPF ce ne sono di diversi tipi in base agli ingredienti che ci proteggono dal sole quindi se sono ingredienti chimici o filtri fisici ed in questo caso io vi rimando alla signora Mautino che ha realizzato moltissimi contenuti in merito vi li lascio tutti in info box che è molto più qualificata di me per darvi queste informazioni mi pare avesse realizzato anche un video su YouTube che vi lascio qui in questo caso Supergoop ha realizzato tanti prodotti questo è l'unico sul quale viene segnalato primer quindi anche il brand lo consiglia come primer famosissimo il loro unseen sunscreen quindi un SPF in gel totalmente trasparente proprio nella texture non ha colore e ne hanno realizzato anche una versione glow sappiate che ho acquistato la versione classica ma non l'ho ancora testata in questo caso è colorato ed è colorato perché va anche leggermente ad uniformare l'incarnato ha una texture fuete quasi fosse leggermente montata ed anche qui un finish leggermente siliconico eccolo qui come vedete il finish è matt vi faccio vedere anche l'applicazione sul viso per farvi vedere che questo SPF appunto ha anche un leggerissimo effetto uniformante dovuto proprio alla colorazione non ci sono diverse shade perché è davvero impercettibile l'effetto però per me che soffro di rossori è sempre molto comodo perché li va già un pochino ad uniformare non potrà mai sostituire un fondotinta però mi aiuta perché applico meno fondotinta al di sopra se già leggermente i miei rossori sono uniformati il finish come vedete e come da claim è totalmente matt ma non disseccante e questo prodotto si comporta bene perché tiene leggermente anche sotto controllo la lucidità nelle ore quindi se cercate un primer con effetto matt leggerissimamente uniformante e che abbia anche un effetto riempitivo che io non ho trovato nel claim del prodotto ma c'è vista questa texture fuete assolutamente consigliato io in questo periodo lo sto sfruttando molto e devo dire mi piace tanto si comporta bene anche quando andiamo ad applicare un fondotinta al di sopra quindi assolutamente promosso anche in questo caso attenzione alle quantità non ne va applicato troppo secondo me ed è per questo che è perfetto come primer perché altrimenti se no applicandone troppo rischiamo di non riuscire a farlo assorbire e che anche il trucco poi ci si sposti sul viso perché abbiamo applicato uno strato troppo spesso al di sotto quindi applicandone poco assolutamente consigliatissimo detto questo possiamo passare ad un ultimo step molto importante per me forse non lo sapete se lo sapete sarà una ripetizione l'SBF andrebbe riapplicato a distanza di 4 ore 5 ore 6 ore ma se siete truccati vi vorrei vedere a spalmarvi una bella crema bianca e poi a passarvela su tutto il viso trucco rovinato e quindi come fare in questo caso io porto con me in borsetta o nello zaino questo prodotto della Roche Posay che si chiama Antelius quindi fa parte della stessa linea del solare del quale abbiamo parlato prima protezione 50 e questo è uno spray uno spray che possiamo applicare anche al di sopra del make up quindi se sono fuori tutto il giorno al sole sto visitando una città applico le SPF al mattino e poi durante la giornata vado a spruzzare questo prodotto provo a farvi vedere come per forma si spruzza in questo modo ed è praticamente trasparente in realtà applicandolo in una zona limitata si vede che ci sono delle leggere goccioline bianche come lo applico io chiudo bene gli occhi chiudo bene soprattutto la bocca quindi faccio questa bellissima scena perché in realtà andando a spruzzarlo in questo modo se lo lasciamo arrivare sulle labbra poi inevitabilmente andremo a mangiarcelo se mi rimangono delle goccioline bianche sul viso semplicemente faccio così lo faccio assorbire e non rovina assolutamente il trucco al di sotto perché lo spray è davvero molto molto micronizzato è la soluzione ottimale? no è un palliativo per chi come me si trucca ma vuole essere sicuro di essere protetto soprattutto quando si passa tutta la giornata fuori dai danni nel sole quindi parliamo di riapplicazione non è l'unico prodotto solare che utilizzerei va applicata la crema viso al di sotto e lui è utilizzato per dei ritocchi non lo utilizzerei mai da solo e mai ad esempio sul corpo perché essendo trasparente soprattutto su ampie zone non si riesce a capire dove lo abbiamo applicato quindi si rischierebbe di scottarsi mentre con la crema solare riusciamo a vedere bene dove l'abbiamo applicata e riusciamo ad applicarla uniformemente però applicandolo sul viso che è una zona piccola facendo più passate in questo modo si è abbastanza sicuri di riuscire ad applicarlo uniformemente si tratta poi come vi dicevo di uno step aggiuntivo rispetto alle SPF già applicato al di sotto anche perché non lo utilizzerei mai su tutto il corpo perché è un prodotto che ha un rapporto qualità prezzo bello elevato questi spray vi metto il prezzo qui ma mi pare che costino intorno ai 15-16 euro quindi sarebbe un peccato sprecarli sul corpo visto anche il prezzo soprattutto per non avere poi un effetto uniforme se siete bianche mozzarella come me io mi abbronzo ma se mi dimentico le SPF in un punto state sicuri che in quel punto mi scotto è un SPF davvero micronizzato quindi non mi dà fastidio applicarlo sul viso sappiate che c'è un nuovo prodotto di questo tipo che mi incuriosisce moltissimo ed è un setting spray di ELF questo prodotto io non lo utilizzo come setting spray ma come vi dicevo per andare a riapplicare la protezione solare durante la giornata se sono truccata ELF ha fatto un setting spray con SPF quindi che si può utilizzare sia alla fine del make up per andare ad aggiungere ulteriore protezione solare sia durante il giorno per fare questi ritocchi e io volevo testarlo volevo testarlo per voi volevo testarlo per me è andato sold out velocissimo quindi sappiate che metto un ordine dove voglio acquistare questo nuovo setting spray di ELF per compararlo a questo prodotto acquisterò anche l'SPF base di ELF che è un pochino un duplo cost dell'unseen sunscreen di Supergoop nella versione classica quindi venite a seguirmi su Instagram perché sicuramente li vedrete nelle mini recensioni del giovedì siamo arrivati così all'ultimo prodotto di questo video parlando di SPF per il corpo io da anni ne utilizzo uno ed uno solo e mi ci trovo benissimo perché due SPF 50 SPF 30 quando vado al mare i primi 4-5 giorni SPF 50 quando mi sono leggermente abbronzata sul corpo mi concedo anche l'SPF 30 per riuscire almeno ad abbronzarmi un pochino perché mi piace tantissimo questo SPF che è di Avene e si chiama non lo so ci sono un sacco di cose in francese è l'SPF spray di Avene pensato per pelli sensibili anche in questo caso farò un po' fatica a farvelo vedere in azione ci proviamo visto lo spray provvedo danni no ce l'ho fatta eccolo qui in questo caso si riesce chiaramente a capire dove è stato applicato ma è un latte quindi è spray quindi già di per sé più sottile si assorbe molto facilmente non è per nulla spesso ma è performante io lo uso come vi dicevo da 4 anni almeno l'ho usato in Grecia quando ho fatto delle gite in barca sotto il sole 9 ore e non mi sono mai scottata quindi è un SPF davvero performante sottile con una profumazione che c'è non è troppo invasiva poi contando che lo applico sul corpo e non sul viso è più lontano dal naso quindi non mi crea problemi ha la tipica profumazione da crema solare se cercate un SPF valido per il corpo con una texture sottilissima per evitare di passare 5 minuti sotto l'ombrellone a fare esercizi di palestra a risudare per riuscire a far penetrare nella pelle le SPF sappiate che mi è successo con un filtro minerale che davvero era una pasta non è il caso di questo prodotto che come avete visto si assorbe in un attimo e parlando di prodotti corpo è l'unico che vi consiglierei perché da quando l'ho acquistato non ho più sentito l'esigenza di testarne altri detto questo il veretto tutto quello che ne pensavo su questi prodotti fatemi sapere se tra questi ce n'è uno che rispondeva alle vostre esigenze siete stati in tanti a chiedermi questo video quindi spero davvero vi sia stato utile se è stato così venite a raccontarmelo giù nei commenti se ho dimenticato qualcosa volete un consiglio avete dubbi domande precisazioni voi lo sapete scrivetemi io sono sempre felicissima di rispondervi e curiosa di sapere quali sono i vostri SPF preferiti perché qui mi accusate sempre di farvi fare un sacco di acquisti ma sappiate che succede molto spesso anche il contrario mi raccomando se vi ho incuriositi andate a dare un'occhiata al link in infobox ai gioielli Anna Luisa fatemi sapere se li avete acquistati se avete mai avuto un gioiello di questo brand come vi siete trovati insomma date un'occhiata anche da questo punto di vista sono curiosa di sapere la vostra io vi mando come sempre un gigante grossissimo bacio e vi ricordo che se vi va io vi aspetto sempre qui ricoperta di SPF cesana ciao 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 Grazie a tutti